E' partita la 39esima festa della Trebbiatura che a Campodoro vivrà i giorni clou nel fine settimana fino a domenica 23 giugno. Un'antica tradizione che celebra l'operosità del popolo veneto e saluta il momento del raccolto. Un evento che quest'anno presenta numerose novità. Invitiamo i cittadini a venire ad assaggiare. Quest'anno ci sarà lo spiedo, quindi un piatto particolare che abbiamo importato dalla provincia di Treviso. Tante attività che faremo. La cosa rilevante di quest'anno è la mostra che abbiamo organizzato che riguarda l'immigrazione. L'immigrazione non solo di Veneti, l'immigrazione degli italiani e quindi verrà ripercorsa l'epopea dell'immigrazione. Terra ricca e confini con il Vicentino, quella di Campodoro che quest'anno durante la festa della Trebbiatura renderà omaggio alle generazioni di Veneti che hanno reso fertili le terre in Italia e nel mondo nella prima metà del Novecento. Noi vogliamo dare un segnale soprattutto alle nuove generazioni e far passare il messaggio di quella che è stata la fatica dei nostri nonni, dei nostri padri nel coltivare la terra e poi di rendere un paese come l'Italia un paese così bello. Ecco, e vogliamo anche attraverso appunto la mostra far vedere le fotografie degli anni passati, quindi stiamo parlando della fine dell'Ottocento e primi del Novecento, che rendono proprio l'idea di quello che è successo in quel periodo. Dall'agropontino alla Sardegna e dal Brasile all'Argentina, i Veneti costruivano canali e argini per regolare le acque con strumenti come questo. Ecco questi, sono pallottini, come vedete che sono questi che usano qui, in questa parte qui, e questi cariolanti che alla sera andavano a dormire in posti di fortuna, in baracche, o in barchesse o in case dei contadini in stalle eccetera, si portavano a casa con la bicicletta, la cariola oppure la ruota. Migliaia e migliaia di persone hanno fatto tutti questi canali che voi vedete da Venezia a Monfalcone e quant'altro quando andate al mare e questo è un lavoro veramente egregio. Ricordiamo che nell'agropontino i nostri dormivano addirittura negli alberi. Sono 150 anni quest'anno che la prima nave di Veneti e Trentini salpa per il Brasile e che ricorda di questa grande epopea che vede nel mondo 100 milioni di discendenti e oggigiorno per esempio col Brasile che presenta la prima grande comunità italiana nel mondo con 30 milioni di oriundi di cui 12 milioni di origine veneta.